Ciao a tutti ragazzi, riaccomi qui nel mondo della tecnologia Sììì, che bello Allora, ho detto nello scorso video che dovevo andare a scavare la redstone per continuare i cavi E sì, devo farlo E che cacchio succede qui perché non taglia più, non mi dico che è finito il fertilizer Guarda che è finito il fertilizer No, ma perché non tagli? Stronza, stupida farm Comunque, tornando al gioco Cosa devo fare adesso? Allora, ricordate che vi ho detto la cosa della perdita di corrente E sì, in effetti c'è Chi ha scritto sì è stato bravo Bravo? Sei stato bravo a rispondere C'è una perdita di 0,5% di energia ogni cubo che trapassa l'energia Ho tracciato la lingua, eh Comunque, tornando al gioco Sì, si perde 0,5% di energia ogni blocco Che in teoria è fattibile, dovrebbe portare sufficiente energia per attivare la farm Non lo so, non ne ho idea, proveremo Adesso, che mi manca? A parte la redstone Mi serve un chunk loader Come un chunk loader? Eh sì, ragazzi, il chunk loader serve No, il kunk, il chunk 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 loader Che si crafta in questo modo Ender per oro Ossidiana, diamante e libro Ossidiana, non ne ho Devo andarla a scavare Che bello, non cacchio di niente ragazzi Che palle Che palle No, ce ne ho tre Non me ne serve cinque, vero? Quattro, non te ne serve? Quattro, porcaccia E io ce ne ho tre Te pareva? Mi pare ovvio E ho questa wolverina qui Continua a rimanere qui Vabbè Cosa faccio adesso? Me ne vado a miniera Mi scavo un po' di resto Mi scavo un po' d'ossidiana E faccio Questo coso qui Ce l'ho l'oro Sì che ce l'ho l'oro C'è tutto Ma io butto qua dentro Ma io l'ho buttuto qua Via 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 Pure le piume Me l'ha fatta la roba cotta? L'ho messa a cuocere? Che fine ha fatto? Il pollo? La carne? Me l'ha rubata la logistica? Quando tornano? Non tornano più Lo buttate qui? Sparito Vabbè Ok ragazzi Ho rimanito un bel po' di redstone Eppure del diamante A quanto pare Wow Figata Scavando a caso Cercando redstone Esce pure del diamante Bene Benvenga Magari c'è di caschi Sì ovviamente ragazzi Qui non ho l'enchant fortuna Quindi non mi uscirà 87.500 diamante Però l'avena di diamante Sembra abbastanza fruttuosa Piene di frutti Fruttuose Frutolandia Oh ferro non mi frega niente Mi serviva solo redstone Che ho raccolto a sufficienza Quasi 4 stack Cacchio Più 16 diamanti E che cacchio Che mi ha colpito Starto scheletro Devo andare a raccogliere L'ossidiana Era da ste parti Giusto si Sempre andato nella strada È sempre la stessa Tanto non cambia mai Ecco vado di qua Vado qui Scendo sotto L'ossidiana Sì un pezzo L'ho preso ragazzi Che bello Appena cominciato E già mi sono cascata Le palle E mi sono rovesciati E me la fatti Che da terra Insomma Mamma mia Stossidiana Quanto la odio Ti odio Stossidiana Tanto tra un po' Non ci sarà più bisogno Ragazzi tra un po' Mi faccio la lava Metto una bella pompa Qui Aspiro tutta sta lava E problemi risolti Sì Faranno molto Spero Spero Voglio vedere Non lo so Prima devo sistemare Tutta la roba sopra Quindi quando ho sistemato La farm di albri E ho tanta energia E posso alimentare Anche una pompa All'infinito E penserò A quello che devo fare Intanto qui Che cacchio Perché sto scavando Lo zolfo Non lo so ragazzi Mi piace E' simpatico Guarda perché poi E' glitterato Vedi come è bello Gonfio Luminoso A differenza delle Avete visto quel creeper Che è uscito Ha fatto un burro Perché c'è Cacchio sto andando Perché c'era Dell'X per terra Vabbè Mi frega niente E' sparito lo scheletro qui Bravo scheletro Te ne sei andato Te sei cacato sotto Alla vista mia Ha visto il mio culo E' sparito Torniamo la superficie Sì Riaccomi in superficie ragazzi Fiero di poter craftare Il mio Chunk loader Però non i libri C'è libri Però c'ho la pelle E c'è una valanga Di carta Quindi I libri Non mi mancano Manco qui ragazzi In tutte e due le serie Sono pieno di carta Di libri C'è carta e libri Ma se la carta La metto qui invece No no La carta non va qui No 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 La carta va qui Ok Abbiamo i libri Posso craftare Mi serve diamante Ce l'ho C'ho tutto C'ho tutto Craft Enchantment table Craftato ragazzi Manca l'oro Manca una ender pirla C'è ne posso fare due Addirittura due Dopo vado a scavare L'altro ossidiano E me ne faccio un altro E voilà Chunk loader Lo sapete cosa fa un chunk loader ragazzi Non lo sapete male Male che non sapete il chunk loader Perché una cosa importantissima In minecraft Dovete sapere che Quando voi non siete presenti Il mondo non si carica Se voi non siete nel Punto dove si trovano Le vostre macchinari I macchinari non vanno avanti E per risolvere questo problema Basta mettere un chunk loader Io adesso metterò un chunk loader qui Se io premo F9 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 Ok Vediamo tutte queste belle righette Che sono i chunk Io devo caricare i chunk Da casa mia Alla giù Perfetto Ci siamo E se io metto il chunk loader Tipo qui Ok Vediamo un po' Mostra laser Ok adesso vediamo l'area Che carica questo chunk Cioè la zona che lascia caricata Quando noi non ci siamo Che è quest'area qui Finisce qui Vedete Si conclude con quel chunk È un'area precisa di chunk Guardate Vedete Fa bordo 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 Tutti i chunk Ok Noi invece adesso Dobbiamo selezionare un'area Che arrivi da qui Fino a casa mia E fino laggiù Quindi mettiamo Per il momento mettiamo Cerchio no Linea di X Linea di X Si linea di X Perché linea di X ragazzi Perché se voi prendete F3 E correte per di qua Vedete che aumenta O diminuisce la X Vedete la X 7, 48, 48, 54, 54, 54, 54, 54, 54 E invece di qua diminuisce Perché è la X questa Si chiama 6X Perfetto Io cerco la 6X Che è questa qui E faccio 16 chunk Bam 16 chunk Dovrebbe arrivare fino a casa Andiamo un po' Guardate ragazzi È arrivata almente lontano Guardatelo Guardate la riga Quanta arriva lontana Dovrebbe arrivare Ancora più giù da casa In teoria 16 chunk Ragazzi dovrebbe essere Facciamo 18 18 chunk Oddio quanto è lungo 18 chunk da qui sono Questo è un chunk 2 chunk 3 chunk 4 chunk 5 chunk Qui sono a 6 chunk Di distanza Io ho messo 18 Quindi arriva fino Non lo so Ok arriva fino a 18 chunk Però Dato che Sono in single player E quindi non ho problema Di appesantire il server E Voglio caricare sia a casa mia Che è la zona di là Tutto quanto Metto tipo un 10 chunk In modo che prende fino a lì Perché lì sono 5 chunk Di là saranno Quanti saranno fino laggiù 7 8 E metto Invece di una x Metto quadrato Metto il mega quadratone gigante Guardate un po' Guardate dove arriva la riga Da laggiù Guardate che giro immenso Praticamente tutta l'area Che sta delimitando quella linea Che vedete È anche oltre la montagna È lì nella foresta È dietro casa in fondo Guardate Tutta quell'area È caricata Un'area immensa E questo affarino Tiene caricato al tutto Io adesso nascondo il laser Perché non mi frega niente via E lo lascio qui Perché fa figo Anzi lo sposto di un quadretto Guarda Guarda Lo sposto di là Perché qui ci passerà la rotaia Guarda Giusto perché mi sta simpatico Ecco qua Andiamo di nuovo Quanti erano 10? È il massimo Ah In quadrato mi dà solo 10 di limite L'ho scelto io 10 di limite Nelle config si fa E precisiamo E vorrei far notare che sono 361 chunk Ok Messo il chunk loader Adesso ho caricato casa Ho caricato la zona Dove farò la farm E adesso non devo fare altro Non devo fare altro Che collegare i macchinari Niente di più semplice Ragazzi Ho i tubi Ah che mo Mi li vado a prendere pure a casa I tubi Aspetta Ok ragazzi Vorrei far notare che mi sono dimenticato Di 15 cosciotti di pollo Che stavano lì Non capivo Ricordate che prima ho buttato del pollo Dentro alla cesta Per farlo cuocere Giusto? E non tornava più Cacchio è andato Ho controllato Qua dentro stava qui tutto il pollo Insieme a quello dell'altra volta Che me lo so scordato Perché lì dentro c'è star polymorphic No? Tutto quello che c'è dentro Lo copia E quindi c'era il pollo dentro E mi ha portato il pollo Dentro a quella cesta Tutte le volte che lo mettevo Quindi è rimasto ammocchiato Lì tutto il pollo La tristezza Vabbè ho preso i cavetti Pure quelli d'oro Vi sto trozzando Ah no sono ancora vivo tranquilli E mi mancano le Certo se lo prendo i macchinari L'avevo brutta eh Che erano? Il planter e l'harvester Giusto? Sì Però 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 Io non voglio un planter e un harvester normale Voglio un planter e un harvester potenziati Li voglio più potenti Perché quelli in base non mi piacciono E quindi cerco gli upgrade Eccoli qua Abbiamo quelli in oro Giusto? Dai ragazzi La main factor l'abbiamo vista un milione di volte Però non l'abbiamo mai vista Con i craft della great tech Che sono tipo Che polle Comunque mi servono cavetti d'oro Circuiti avanzati Cioè vorrei far notare Circuiti avanzati Oro In nugget Però vediamo se c'era già oro in nugget Sì c'era già in nugget Quindi non c'è problem Quindi non c'è problem Via via Sparite tutti Anche questo sparisce Quindi mi serve oro in nugget E Ferro Insulated Ma Quell'altro Ricordate che io ho fatto Ah no nugget Ho ingotto proprio l'ingotto Comunque dicevo Ferro L'oro non insulate Quello lì che abbiamo usato Lì Non quello Ma quello insulato Normale A uno Dove l'era? Ho messo la gomma? Qui Guardate Basta metterlo nella crafting Così E facciamone solo quattro Perché altrimenti Vanno buttati Perché io non lo uso Questo cavetto Tipo di cavetto Lo uso solo qui per la main factory Per questo craft Nient'altro serve Strano L'ho mai Sto insulated per uno E la prima volta Giuro GG alla main factory Per queste fantasie Serie type Con la grec tech Grazie main factory Per averci rovinato la giornata Comunque Upgrade Iron Craft Non va perché mi mancano le plastic sheet Che io ho qui Perfetto Craft Begin Perché non vai Non ho loro Giusto Mi sono confuso Non ci vogliono le nugget Ci vogliono gli lingotti sani E Voilà Upgrade Due ragazzi Due upgrade Perché Dovete mettere lo stesso upgrade Sia sul planter Che sull'harvester È importante È importante Mettere planter Harvester Nello stesso coso Ah Che pazienza Che ci vuole questa serie ragazzi Comunque Ho in mente Grandissime cose Sei Aumento tante Mamma mia Divertimento Guarda A parte mi sto grattando L'occhio Mi è brutto l'occhio Mi è brutto l'occhio No ok Sei ripreso l'occhio Stavo per prendere un occhio ragazzi Dal prurito Mamma mia Mi è quasi caduta la palpebra Nella cosa Insomma Quello che sta attaccato Quello Comunque Io la mia farm La voglio iniziare qui Perché qui c'ho già lo spiazzo Bello spiazzato Guardate che bello spiazzo Che c'ho Da qui comincerò la prima E poi le altre si evolveranno intorno Con calma Poi non so come le evolverò Ci penserò poi Non lo so Testeremo anche questa cosa Della logistic qua Che dicevo Se la pipe è troppo lontana Non fa logistic Proviamo Proviamo Dai ci stiamo Ci stiamo Aspetta Prima fa mi tirano un altro po' Dei cavetti Almeno collego tutto Un altro po' Un altro po' Un altro po' Sì qui dovrebbe bastare Più o meno Proviamo eh No non ancora Mettiamo il macchinario Proviamo direttamente col macchinario Arvester Lo metto più o meno Qui Sì E questo tubo Deve arrivare fino Ah ma posso anche non mettere la logistic Perché alla fine non serve Il macchinario Butta direttamente nella pipe E la pipe viaggia Ma che mi serve la logistic Scusa Ha 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 Mi stavo fregando da solo Non mi serve a nulla mettere una pipe Della logistic qui Beh mi servirà qui Perché qui ci sarà un incrocio Ok mettiamola Vediamo Guardate Guardate L'avevo detto L'avevo detto io L'avevo detto L'avevo detto L'avevo detto L'avevo detto Mamma mia Quando uno è pro Non c'è nulla da ridire Quando uno è pro Eh ragazzi Ricordate che vi avevo detto Che la logistica Ha un limite di raggio d'azione Che esattamente non so quanto è Guardate È verde Vede quell'altra Ma non vede quest'altra di qua Vediamo fino a dove vede Facciamo questo esperimento nel video Dai registriamo Vediamo fino a dove vede una logistic Perché quella di là la vede Ma questa di qua no Vediamo Non la vede Qui non la vede raga Guardate Qui vede quella Ma non vede quell'altra Non la vede raga Figata Avete capito come funziona la logistic Deve vedere le altre pipe Ecco adesso la vede A questa distanza la vede Quanti saranno Mezzo stack Una trentina di blocchi Forse 32 blocchi è il limite Oltre 32 blocchi Ragazzi le pipe non si vedono più Oltre 32 tubi Che figata Che figata Mamma mia Gli sperimenti nei video Mi piacciono troppo Vedete Cioè Per voi magari è una stupidaggine A me mi piace scoprire le cose Mentre registro il video Cioè Testarle qui no Sul momento Uno dice sai vai In single player Provi no Bello fare così È proprio il bello Il bello dell'azione Proprio Ok vediamo un po' Ok Questa adesso ha visto quella Quindi questa Vede quella Che quella vede quella E quella vede quella Tutte si sono viste E voilà La logistic pipe è collegata Adesso Devo rimediare dei sapling Ok Ho 63 sapling Dovrebbero bastare E avanzare Per quello che voglio fare Dovrei anche fare una piccola struttura Intorno Perlomeno abbellire La distanza è giusta Quindi in teoria Le mie farm ok Le metto lì però Non vorrei che fossero troppo vicine Se mi causano lag Poi le tolgo Magari comunque Accorcio la render distance In modo che non me le renderizze Perché casa ancora la vedo Ok aspetta Fatemi vedere un po' Se vedo ancora casa da qua giù Perché la distanza è buona Potrei allora fare che questa è la prima E le altre tutte più giù Poi magari butterò giù Quelle montagne con filler Vediamo Eh sì ragazzi Il problema mio è la scala video Ovviamente Cioè io non voglio renderizzare Queste farm mentre sono a casa È un pezzo di casa Se renderizza qui infatti Dovrei mettere la più lontana Oppure accorcio il render distance Che mi frega La metà medium Quanto ce l'ha adesso Su un video Eh mettiamolo a normal Ecco Su normal non dovrei renderizzare Casa Vediamo un po' Vediamo un po' No Non vedo casa Perfetto L'importante mia è non vedere le farm Ragazzi Io non voglio vederle visivamente Poi il resto Non mi frega niente Poi lagga quanto gli pare Comunque Come prendo le misure Questi sono upgrade In oro Quindi increscono Increscono il raggio di 7 Quindi questo è un 3x3 Quindi più 7 sono 1 2 3 4 5 6 7 Voilà Questo è un angolo Vi faccio queste misure Non è importante che le faccio Ma vi faccio vedere perché so 1 2 3 4 5 6 7 Qua Questi sono i due angoli della farm Vi dimostrerò che questo è veramente l'angolo Allora cazzo qui 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Qui Qui va il planter Perché conto quell'1 2 finale ragazzi Perché l'oggetto di base è 3x3 C'è il planter Guarda vi faccio vedere Faccio vedere questa cosa Guardate Guardate Ecco qui Questa è l'area del planter normale E poi siccome io ci metto questo Upgrade A più 7 Quindi 1 2 3 4 5 6 7 Capito? Questo è quello normale Più 7 arriva fino lì E uguale più 7 arriva fino a qui Più 7 arriva fino a lì Ok Testiamola subito Mettiamo i sapling Mettiamo la terra sopra Perché Fa pigo Ah però devo collegare energia Vediamo un po' Questo cavetto deve arrivare Qua Perfetto E dovrò mettere anche una supplier poi Ma adesso non mi interessa Devo solo farla partire per rimediare un po' di carbonella Vediamo un po' Se va Dovrebbe cominciare a plantare Ah no Sì ecco l'energia Madonna instant Che rapidità Vediamo quanta energia arriva Un po' pochina Perché ovviamente l'energia a casa è quella che è raga Non è coi big impianti È coi telegeneratori spompati Che alimentano a malapena un query Vorrei far notare Che ha capito subito Che serviva energia E l'ha portata subito qui Certo Quanto ci ha messo Un nanosecondo È stato Wow È stato GG GG alla farm Comunque Adesso aspettiamo che crescono gli alberi E nel prossimo video vedremo i risultati Ciao a tutti ragazzi E vorrei farvi vedere Guardate l'angolo quanto è preciso Guardate questo era l'angolo Eh bravo Ho detto che era l'angolo Che dimono tappo Perché sennò Via Via Erbaccia Erbaccia Qui devo allargare ancora un po' Perché 7 arriva fino a qui Via Ciao 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 E voilà La farm è completata ragazzi Se non avete capito qualcosa Me lo fate sapere nei commenti Ma la Mind Factory Abbiamo vista 87.532 volte Se avete Ancora non avete capito come si fa sta farm Io non lo so Vi do questa pala in testa Questa è una pala di Xanderite Fa male in testa Io lo dico E mi sto prolungando troppo Ciao a tutti ragazzi Bella Ciao 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 Ciao